Un cordiale saluto, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Il scontro frontale tra due automobili è successo nel primo pomeriggio di oggi a este in provincia di Padova. Un incidente tragico purtroppo dall'esito mortale. Lo schianto è avvenuto sulla vecchia statale 10. L'impatto è avvenuto tra una Ford e un SUV. L'uomo alla guida della Ford Station Vagon è morto all'istante. I soccorsi sono stati vani. Trasportata all'ospedale una donna, la conducente dell'altro mezzo. Naturalmente sul posto sono arrivati numerosi soccorsi e le forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica di questo incidente. Questa mattina a Venezia è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Era nel rio di San Girolamo a Canareggio. Per recuperarlo dal canale sono arrivati i vigili del fuoco. In breve la polizia ha identificato la vittima. Si tratta di un 37enne che abitava in provincia di Treviso a Mogliano Veneto. Come sia finito in acqua però al momento non è chiaro. Dunque in queste ore le forze dell'ordine stanno indagando per capire come il 37enne sia finito nelle acque del canale. Una donna di 48 anni a Padova è morta dopo due giorni di fortissimi dolori allo stomaco. Tre medici risultano indagati. La famiglia vuole vederci chiaro e capire il perché della morte di Michela Ravazzolo, 48 anni. La donna si era rivolta al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera per dei forti dolori allo stomaco e nausea. Era stata visitata, tenuta in osservazione e poi mandata a casa con una cura per la gastrite. I dolori però continuavano ad essere forti e dopo due giorni la 48enne è morta. Probabilmente aveva un infarto che non sarebbe stato riconosciuto. Ora viene chiesta giustizia e tre medici risultano indagati per omicidio colposo. Nel registro degli indagati sono finiti il medico del pronto soccorso, la guardia medica e il medico di medicina generale. La vittima abitava a Maserà, in provincia di Padova. Stop alla Forwest sui contratti per il latte. È quanto chiede la Coldiretti di fronte alle comunicazioni di unilaterali di variazione al ribasso del prezzo alla stalla o di riduzione delle quantità rispetto agli accordi che erano stati presi, che le industrie stanno mandando agli allevatori e che mettono a rischio la sopravvivenza e il lavoro di oltre 30.000 aziende agricole, senza considerare tutto l'indotto. Si tratta, ha spiegato oggi Coldiretti, di una situazione generata anche dalla pratica fuori legge, ma purtroppo ancora in uso di stipulare intese verbali e di durata inferiore a 12 mesi, per la quale si chiede l'intervento degli organismi di controllo del Ministero delle Politiche Agricole insieme all'attivazione di tutte le contromisure legali disponibili in caso di necessità. Adesso parliamo di un appuntamento importante che si è svolto oggi a Padova. Il prefetto ha visitato la sede della protezione civile provinciale. Guardiamo. Il prefetto di Padova, Renato Franceschelli, ha fatto visita alla sede della protezione civile della provincia di Padova per conoscere da vicino l'eccellenza del volontariato provinciale padovano. Il prefetto era accompagnato dal presidente della provincia di Padova, Enoch Soranzo, e dal consigliere delegato alla protezione civile Vincenzo Gottardo. Ad accoglierlo anche i coordinatori dei 13 distretti in cui è suddiviso il territorio padovano. Io credo assolutamente, come ha sempre avuto, un ruolo a disposizione del territorio, dei sindaci. Io credo di poter dire che ho visto un'attenzione veramente importante del suo eccellenza il prefetto. La sua visita conferma davvero la bontà e il grande lavoro che è stato fatto in questi anni, da tutti, a cui va un grosso ringraziamento. Un ringraziamento però particolare va a tutti quei volontari che stanno dando insieme a tutti i volontari di tutti i distretti di questa protezione civile provinciale unita con i loro sindaci e che è pronta sempre, in ogni momento, a dare quel sostegno e quell'assistenza ai territori, ai cittadini padovani e che sono stati poi determinanti, posso dirlo tranquillamente, insieme all'autorità e alle istituzioni nell'emergenza degli ultimi dieci anni. Io credo di poter dire che le risorse investite, che continueremo a investire per questo tipo di struttura, credo che siano soldi e risorse molto spesi bene, spese benissimo, e credo che dovremmo continuare su questa strada per dare struttura a un territorio che comunque mostra le sue fragilità e deve farsi trovare pronta in qualsiasi momento insieme al fianco dell'istituzione e dell'autorità pubblica e quindi continueremo così e è una giornata di grande soddisfazione. Il prefetto ha potuto visionare i vari mezzi, le attrezzature e gli strumenti in dotazione. I rappresentanti del volontariato provinciale hanno spiegato anche tutti i progetti relativi alla formazione, alle tecnologie, alle attività con le scuole e all'organizzazione dei distretti. Sono state illustrate le diverse specializzazioni del volontariato, dai gruppi cinofili alle radiocomunicazioni, agli esperti nel recupero dei beni culturali. Sul fronte dei numeri, il territorio padovano può contare su 3.500 volontari, di cui 2.000 operativi. Sono circa un centinaio i gruppi comunali e 10 le associazioni nazionali che operano nella protezione civile. Ho trovato conferma in una cosa che avevo già sperimentato, cioè della validità del sistema di organizzazione del volontariato e della gestione e del coordinamento di questo volontariato, quindi non posso solo esserne soddisfatto. Io spero che si possa continuare a lavorare tutti insieme nell'ambito delle competenze di ciascun ufficio e quindi si possa migliorare nella programmazione soprattutto degli eventi e quindi poi essere in grado di gestirli quando ove mai succedessero. Posso solo fare i complimenti a chi ha messo in piedi tutto questo, a chi in questa struttura lavora, ma soprattutto al mondo del volontariato che a questa struttura fa riferimento e che è anche qui, come per il resto d'Italia, la grande risorsa di questo paese. Cani, gatti, uccellini, conigli sono entrati a far parte della quotidianità di molte famiglie. Gli animali da compagnia sono davvero presenti nella vita di tante persone come veri e propri componenti della famiglia. Quando questi animali vengono a mancare si apre un grande vuoto. Fino ad oggi la legge vietava di seppellirli nelle proprietà private e oggi è arrivato l'ok della Giunta Veneta a sotterrare in terreni privati o aree dedicate gli animali da compagnia. Quando verranno a mancare? Sentiamo i dettagli. Tra qualche giorno, quando la delibera approvata in Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione, in tutto il territorio Veneto sarà possibile seppellire le carcasse degli animali da compagnia anche in terreni privati o in aree attrezzate e definite cimiteri per animali. La decisione è stata presa in conformità ad uno specifico regolamento comunitario con la specificazione che il sotterramento deve avvenire in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi. Per il presidente Zaia, dare la possibilità di seppellire l'animale morto in terreni privati o in aree dedicate non è una semplice scelta tecnica ma un segnale di attenzione a una realtà innegabile. Per tanta gente, l'animale da compagnia ha un significato che va oltre le parole perché determinato dal cuore e poter tenere vicino a sé l'amico di tanti anni che se ne è andato non è un desiderio da banalizzare. La delibera approvata esclude da quanto previsto i circuiti commerciali, i canili e i rifugi per cani. Domenica prossima al Via, la 52esima edizione del Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino organizzato in fiera a Verona. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperà il presidente della Regione Veneto. Il taglio del nastro sarà fatto dal neopresidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Alla fiera sono attesi in visita anche il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Parliamo di sport e Federazione Italiana Carate. Qualche giorno fa il campionato regionale in provincia di Treviso. Allora parliamo dei risultati che sono stati ottenuti. Numeri mai visti per l'edizione numero 9 del campionato regionale della Federazione Italiana Carate che si è concluso domenica scorsa a Maseri in provincia di Treviso. Abbiamo avuto più di 2000 atleti in gara nelle tre tappe, esclama un raggiante Stefano Savornian, presidente del Comitato Regionale Veneto che, congratulandosi con tutta l'organizzazione, ha anche parole di ringraziamento per collaboratori e organizzatori. La classifica generale 2018 si arricchisce tuttavia di nuove società entrate quest'anno nel Movimento che già ben figurano e promettono di dare battaglia al più forti nella prossima edizione. Numerose le coppe vinte dagli atleti delle 50 associazioni venete. È una classifica finale a punti che premia Parliamo adesso di clima dalla serata di oggi fino alle prime ore di venerdì 13 aprile. In Veneto sono attese precipitazioni diffuse anche con rovesci e temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane. Il centro funzionale della protezione civile regionale mette in allerta i comuni di Perarolo di Cadore per la frana locale e della fascia del piave pedemontano e dell'alto Brenta, Bacchiglione e Alpone tra Treviso, Vicenza e Verona per eventuali criticità alla rete idraulica e fognaria e la possibilità di eventi franosi o colate rapide. Lo stato di attenzione rimarrà attivo fino alle 14 di venerdì. Siamo arrivati al termine di questo spazio dedicato al telegiornale e vi ricordo che potete seguirci anche attraverso Facebook la pagina ufficiale di Telecittà dal nostro sito internet www.telecittà.tv e dalla nostra app scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone. Siamo arrivati al termine, vi do l'appuntamento a domani e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.